I partiti fanno i conti con i risultati delle amministrative, c'è attenzione all'interno del Partito Democratico, ma anche nel centrodestra, a cominciare dalla Lega. Le elezioni, tutto sommato il centrodestra ha tenuto 34 comuni erano e 34 sono rimasti, ma obiettivamente poi manca un leader per fare la partita nazionale? Sì, manca un programma condiviso e concreto, perché è vero che abbiamo vinto in tante città che era governata dalla sinistra a Trieste, a Bordenone, da Novara, a Grosseto, a Savona, quindi sono state ottime le elezioni amministrative. A livello nazionale serve un programma chiaro, come Lega noi mettiamo a disposizione tutto il centrodestra e soprattutto degli italiani che non votano più, un programma che presenteremo sabato a Parma e poi il leader viene dopo. Prima il progetto e poi l'allenatore. Bossi l'ha attaccata, la Lega vuole tornare al passato? Qualcuno è ferma al passato, se qualcuno ha nostalgia della Lega al 3% e guarda al passato non mi interessa.